amici di bella sicilia e siamo ancora in questa splendida città che sta ospitando la festa dei fiori una festa colorata con i carri infiorati ma anche con il gruppo forte stiamo vedendo per le vie di questa città e davanti a noi i carri infiorati siamo da Cireale abbiamo già mostrato alcuni carri in una precedente live e adesso vediamo i gruppi forte che si stanno esibendo qui per le vie del circuito e lì stanno arrivando altri carri infiorati allora fateci sapere da dove ci state seguendo noi continuiamo a mostrarvi la festa dei fiori 2024 qui uno dei carri infiorati allora amici fateci sapere da dove ci state guardando festa dei fiori 2024 a Cireale sono sei carri infiorati e poi tanti eventi collaterali via da Cireale che è stato un bel mondo sulle fiori 2024 c'è un giudice di città e poi c'è anche un giudice di città e poi che è un giudice di città e poi è un giudice di città e poi che è un giudice di città e poi in fondo la piazza Duomo dove ci sono altri bellissimi carri pronti ad esibirsi andiamo a vederli intanto fateci sapere da dove ci state guardando qui la festa continua fino al primo maggio quindi amici se vi trovate in Sicilia venite a vedere in prima persona la festa dei fiori di Acireale ciao Giuseppe ciao Marco dalla Mezzia Terme queste invece sono alcune opere realizzate in cartapesta e allora continuiamo a percorrere questa via del centro di Acireale per raggiungere la piazza Duomo mostrarvi altri carri infiorati e naturalmente nel frattempo continuate a scrivere e fateci sapere da dove ci state guardando salutiamo tutti gli amici che ci seguono sempre in pagina siete in tanti un milione solo nella pagina facebook a dire il vero quasi un milione mancano ormai poche migliaia di follower quindi invitati i vostri amici a iscriversi sulla pagina e su tutte le nostre piattaforme per crescere sempre in più insieme a voi per far crescere la nostra bella Sicilia addirittura ci seguono da Londra ciao e poi dal Belgio che bello Michele ciao allora speriamo di farvi cosa credita portandovi oggi in provincia di Catania ad Acireale la città nota per il suo carnevale il carnevale con i carri di cartapesta e poi da qualche anno l'evento si sdoppia perché i carri infiorati hanno preso un posto d'eccezione proprio in occasione della festa dei fiori quindi sfidano in queste giornate di primavera ci chiedono che temperatura c'è posso dirti tranquillamente più di 20 gradi 22-23 qualche ora fa quando eravamo in auto per raggiungere questa cittadina del Catanese lo fateci sapere anche dalle vostre parti qual è il meteo e stiamo per arrivare guardate lì c'è un altro carro lo vediamo già in azione che ogni carro ha delle tappe ben precise dove si birsi ed ecco davanti a noi la cattedrale uno dei simboli di Acireale amici allora seguitici su Bella Sicilia ma anche su Onda TV con le nostre live i nostri video le nostre foto e naturalmente condividete e invitate i vostri amici anche a farlo e poi fateci sapere sempre le vostre impressioni anche semplicemente da dove ci state guardando ed ecco davanti a noi un altro carro quello degli artisti di strada che rende onore agli artisti senza palco e qui ce n'è un altro guardate che bello intanto Fiore ci saluta da Zurigo ciao e poi Massimiliano dalla Lombardia e questo è il corso Umberto I vita equilibrio io vedo fuoco guardate questo dei giovani maestri qualcuno sta uccidendo i geni non ha senso cos'è accaduto il sentito l'oscurità e non si tratta di bene o male e si tratta di potere che cos'è tante persone giunte qui da Ciriale per assistere allo spettacolo guardate qui che bello in questa bellissima cornice la piazza Duomo con la cattedrale e i bellissimi cari infiorati realizzati dai maestri molti di questi sono giovani da generazione in generazione continua quest'arte esatto Giuseppe siamo ad Acireale la città del carnevale dove il divertimento l'allegria e l'arte di questi maestri continua anche con la festa dei fiori con questi carri infiorati guardate bellissimi migliaia e migliaia di fiori rendono belli colorati piccati e poi ci sono le luci di illuminazione guardate i movimenti voglio svegliarmi e allora amici fate sapere cosa nell'estate non vado più a San Tropez una vita di guai non mi prenderai mai sto volando su un jet domani altro DJ e adesso portami al mare altro di canna pagare e mi davanti c'è il tuo uomo e allora molti ci chiedono quanto dura prosegue domenica e poi grande chiusura nella giornata della festa del lavoro il primo maggio quindi ancora c'è tempo per venire qui a girare e godere dello spettacolo e anche gustare e lì altri due cambi amici questa è la festa dei fiori di Ascireale ciao ciao ciao